La natura chiede di essere rispettata. Non c'è bene più prezioso del mondo che ci ospita. Ognuno di noi può fare la sua parte, ma non basta. Per fortuna, le auto consumano sempre meno. Proprio come la nuova Golf. La fiducia deve essere per sempre. Non si deve mai smettere di alimentarla. Ford Svizzera, in 50 anni, non l'ha mai tradita. E ci riporta ad essere bambini. Regalandoci molte sorprese. L'inverno è ormai alle porte. E ci prepariamo per l'arrivo del freddo. E della neve. Come ogni anno, cambieremo le nostre abitudini. Ed è sempre saggio seguire i consigli degli esperti. La sicurezza viene prima di ogni cosa. Soprattutto se si possiede un'auto. L'emozione di arrivare puntuale a una premiere. Carichi di aspettative. E lo show all'inizio. Una storia dalla trama spettacolare. Interamente realizzata in Giappone. La protagonista è giovane. E stupisce per le sue capacità. E' bella e affascinante. Ed è molto credibile nel suo ruolo. Quello dell'auto che tutti vorrebbero. Guida, passione e sicurezza. Ogni settimana, su Teleticino. Alla stessa ora. Grazie. Grazie a tutti.